Luca, che ne pensi se oggi andiamo in piscina? Perfetto, allora vado a preparare subito la roba! Allora, prendiamo le cose da portare. Allora abbiamo qua cuffie dispensabili, se no questi qua rompono, i bagnini, poi la sorvietta, perfetto, e un costume, non prendo neanche quello di ricambio perché mi basta per tutto il giorno. Ma vabbè dai, la crema. Perfetto, posso andare. Oh Lisa che ne pensi se andiamo in piscina? Sì che bello, preparo due cose e arrivo. Allora, prima di tutto prenderei i costume. Concordo. Che ne pensi se ne prendiamo due? Va bene, dai. Io sceglierei, guarda Lisa, io prendo questo. Un bello. Secondo, prenderei questo. Una cosa un po' più easy, un po' più uscialla. Un bello dai. Lisa però questo non so se mi convince. Ma come, hai risalto con la tua pelle? Dici? È bello a fare. Allora lo prendo. A me non mi convince molto questo. Perché? No dai Lisa, non puoi non portarlo questo, ma scherzi? Cioè, va di moda quest'anno? No no, portalo Lisa. Portalo. Tu porto il secondo costume. Io sì, mi sa che porto questo e ricambio. Sì? Beh, lo puoi anche fru fru. Ci piace. Bello bello portalo Lisa. Ragazzi, ma siete pronte qua? No, perché io non sto spendendo da un'ora. Eh no, però poco. Non prendere sa biette, la crema, qualcosa. Vabbè, io intanto vado, eh, ciao. Ok, ciao. Questi uomini non ci danno neanche un attimo di tregua per preparare le nostre cose. Mi sa che ci mancano i nostri tilimare. Sì esatto, lo prendiamo. Ok. Uno e una due. Ma Cenci, dobbiamo preparare il beauty? Giusto. Direi che il beauty è pronto. Ci sta. Ok. Alcune ore dopo. No, mazza. Piscina. Tuffo. Fa. Tuffo. Ehi, Luca. Noi siamo pronte, eh? Ah, sì, sì. Siete state velocissime, brava. Teniamo questo, Lisa. Sì, dai. Mamma mia, è pesante. Oddio. Oddio, 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 Lisa. Oddio, Lisa. Abbiamo fatto un disastro. Tieni una mano. Sì, grazie, sarebbe meglio. Te lo apro. Grazie. Ecco, ci voleva proprio. Buona giornata. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Guardate qua. Vanili. Frutta. Acqua. Non può mancare il tonno. E voi cosa avete portato? Eh, eh Ma voi Quante roba avete preso Sì ma tranquillamente andiamo al bar Ah già, è vero, non c'è problema Ah Luca, una bella carbonara Ah sì, dai ci sta Ma, ma, chiuso Come mai è chiuso? No, ma perché? Non capisco Adesso cosa che mangiamo, scusa? Io non lo so, io voglio prendere una bella carbonara E un bel petto di pollo Sì ci sta E un caffèrino Ma non c'è nessuno Dove sono tutti? Eh infatti, ma anche quelli del bar non ci sono, scusa Ma adesso noi cosa mangiamo? Eh, siamo un po' nella M Eccoci qua Avete già mangiato? Eh, no, in realtà il bar era chiuso Quindi siamo sempre chiusi Come sempre ci va? A parte che oggi era sopero Ma come è sopra? A luglio? In vicina? Sì Sono matti questi Ma siete proprio disorganizzati comunque voi eh? Eh, un pochino dai Non troppo Meno male che ci siamo noi Meno male che abbiamo organizzato anche per voi ragazzi Sì Guardateci per i panini, per Luca? Sì E i panini per Marco Buoni a pala Wow Ci conviene metterci la crema Tu perché sei bianchina Che meglio metterla Io anche se ho la pelle scura Mi conviene perché è così Proteggiamo la nostra pelle Eh concordo Te la metti sulla schiena vai Che bel massaggino che ti sto facendo di tutto E voi ragazzi? Lui la crema La crema Bella grezza Non ce n'è che il sole Date appena Beh forse un pochino di sole ce n'è Però vabbè dai lo mettiamo dopo Ma sui più tardi non c'è problema Cici ma cosa stai facendo? Ma Luca sto mettendo la crema protettiva Non vedi con la pelle troppo chiara? Eh? Come vai Luca? Andiamo a fare un bel tuffo Vai partiamo Dai andiamo Ragazzi la doccia Ma guarda che la doccia l'ho già fatta stamattina Ma anch'io Siamo già a posto Dai pa Dai Un bel tuffo A bomba A bomba Yes Vai 3 2 1 Ragazzi la doccia No no ma stavo sentendo l'acqua Si era giusta Ti è qui l'acqua perfetta Adesso facciamo la doccia Andiamo Grazie Vado Adesso è troppo un drago Non ci si tuffa La prossima volta fuori Basta Eh vabbè dai scusate La cuffia Ok ok Senti entriamo in piscina Si ma con calma eh Perché già è fredda Endriamo in piscina Inca no no lisa tu prego no no lisa 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 esci subito dalla piscina perché stai iniziando a piovere e quindi? e quindi ti bagni bene ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto se poi siete dato così un bel pollicione in su e mi raccomando seguiteci su instagram io mi chiamo lucas.official io zanotti nescore lisa ceci official marco.zanotti e dai ragazzi ci vediamo in un altro video e ciao belli ciao